oh vedi da lontano il controllore sta si sta a piedi vai ci vediamo a scuola eh volete rompere il ghiaccio? si si venite così si fa della Garnier in realtà ho cambiato perché ho usato per un anno la Nivea non è possibile che alle sette di mattina ti stassi indolare con sti strunzotti la maspocciona e che cosa? madò qual è il supereroe degli autobus? Bullman! che peggio ma vuol c***o stranzo un mostro ma non conosco nessuno mi ha messaggio a 404 così mi risponde e pensa all'occhiottante amici un messaggio! eh questo è un amico mio è un amico mio mi manda il messaggio un amico mio mi manda il messaggio un amico portandi amici madò è me ancora devi arrivare è me da me è me è me è me buona 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 dunque determinato il campo di esistenza e il dominio della funzione vado a calcolare il punto di flesso a tangente verticale considerando la funzione seno oh accor dobbiamo iniziare è già assai al e che cosa vado oh mo che arriva mi prendi il posto grazie cioè caffè vuoi pure senti scusa ma viene da ruvo questo si si ah perchè cioè non l'ho mai preso quindi non so si senti ma non l'obliterato pensi cioè non fa niente insomma si ok ma va a bari questo oh si vado me ne vado a casa vai a bari pure per me vai scusa posso? buona qui su buona nu Se facciamo l'incidente muore solo il conducente Se facciamo l'incidente muore solo il conducente Oh, ripul! Oh, ferma! Oh, adecchè! Oh! Oh, vieni qui! Come si chiama il superero degli autobus? Superman! Oh, che cazzo! Sato, lo dovete trovare! Trovare! Allora, no!